Veramente No perché è scontato dirlo ma veramente c'è Io non so come ringraziarvi sin serio perché Date veramente un senso a quello che ho fatto fino ad oggi nella mia vita Nell'essere qua questa sera, quindi grazie di cuore sin serio Grazie Spero che vi sia rimasto qualcosa di buono e che possiate andare a casa con un po' di energia positiva Per continuare il vostro percorso Buona vita a tutti Giacomo Spagnoli e Filippo Gabani Voi Grazie Grazie Ciao Alla prossima C'è quella canzone di prima nuova no? Che ve lo facciamo ascoltare ancora Essere o dover essere il dubbio amletico Contemporane come l'uomo degno litico Nella tua gabbia due per tre Mettiti comodo Intellettuali nel caffè Internetologi Socio onorare gruppo dei selfisti anonimi Intelligenza e dei modelli Intelligenza e dei modelli Risposte facili Utili e minutili Ciao Ciao Dai Buona sera Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.